Rilassati, quanti colori hai fatto? Tutti! Mi sono da merda! Io amo! Ok, prima abbiamo fatto un bel mazzo, abbiamo perso subito al match 1 Questa cosa che se perdi vai a casa non mi va giù Non me ne frega un cazzo se i pro giocano sempre la single elimination Io non sono un pro, io quando gioco a Magic non lo faccio nella vita Quando lo faccio voglio godermela e fare un solo match Mi dà una sensazione di vuoto Quindi casco nel trappolone del vintage cube draft della Wizard E spendo i dollaroni per giocare un altro cubo Gli altri ragazzi del premiato maglificio Romagnoli hanno abbandonato Sono le 4.40 di mattina Magni è fuori che fumo una paglia Forse dopo rientra, forse ha detto Nel frattempo mi scrivo e aspetto placido placido Che si chiuda l'ottetto per cominciare il draft Quattro iscritti Quattro ne mancano Forza ragazzi Fatevi sotto Numero sì Dai ne manca uno Fatti avanti impavido Oh Molto bene Abbiamo la prima busta Cosa abbiamo? Game alert Beh Jace E jitte figa Dai Jace e jitte Beh Jace cazzo ragazzi È una winning condition eh Questa volta partiamo da Jace Tio boh la jitte stra forte Jace dai Ok Brainstorm Fortissimo Molto forte anche Opposition Però la Brainstorm C'è Disenchant che in cuba è molto forte Io prendo la Brainstorm Cazzo È il re dei peschini Uh Mana drain Super counter Cazzo Siamo partiti con Un fortissimo blu Lo facciamo noi il mazzo controllone stavolta Ok La cassa notturna comincia a farsi sentire Il cervello comincia ad ammosciarsi Già non siamo giocatori forti In più ci mettiamo anche la dose di stanchezza E una mezza ballettina Siamo perfetti per giocare a Magic I nostri colleghi di Drafta Stanno ponderando le loro scelte Magni Siamo partiti fortissimo Bravo Guarda che tre pic Si basta No ma c'è anche Fabry Pester Might È un Jace quello Questa è Gideon? Sì Prima tre pic Però ha lasciato una jitte eh Uh bello questo Sì Mi piace Mi piace Mi piace questo Dragon Lord Sì sta venendo un controllone Stronzo Stronzo Questo quando entra prendi il controllo di una creatura Un planeswalker Sì ma sai che Sta venendo fuori un mazzo che è troppo difficile da giocare a quest'ora Troppo difficile ragazzi Dai Dai diobo Se siete lunghi a draftare Dai cazzo Fate come noi Piccate la cazzo di cane Fate scorrere le cose veloci Dai Vai forso Ma vabbè ma se voglio il blu più peso del cubo Un ascio che è perfetto qua Fabry si lancia in piano Siamo aperti anche al nero Blu nero Bell'architipino Premiato maglificio romagnoli Grande ritorno sulle scene di magic online Qui per voi Con il nostro scarsissimo modus giocandi Probabilmente faremo dei gran video da un match Perché Perché noi si perde Dai qualcuno lo vinciamo dai Adesso non è che Non piaggiamoci troppo addosso Uh Cazzo Glenelendra Glenelendra Guarda che belle carte da controllo Spellskite Fossato Glenelendra Cazzo Fossato è forte però qui C'è la Sphinx Revelation anche Ragazzi bisogna di un consiglio Ci prendiamo un fossato qua In questa cosa Dio boh Un fossato mette a tacere un sacco di gente C'è la Glenda Ciao su perché Facciamo Glenda Anche Spellskite Glenda però di voi gli mette quella para che dice Sì 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 Doppione gate è forte la Glenelendra Io vado Ciao ragazzi Buonanotte Mi ritiro perché se facessi un quarto domani mi dovete fare meglio Vai vai Grazie per l'ospitalità Ma va Grazie a voi Dig through time Irriducibile Boh io lo prendo sto coso perché mi sa che tra un po' si va blu bianco Perché sta passando un sacco di bel bianco Quindi io Continuo a prendere Rimuovo al bianchi Sto piccando un po' così alla veloce Perché sono un po' stanco Sono un po' stanco Picco un po' alla veloce Disenchant è fortissimo Mi piace Lo prendo Questo cosa fa Defender 4 ice counter Ciao ragazzi Quindi se io gioco 4 sorcery Ho instant Li tolgo Lo trasformo E diventa un horror Che rimbalza le creature Ma io Dai cavati Io prendo il disenchant Mi piace Disenchant mi piace Faremo al sicuro In questo formato Bella Eh si Mi sa che andiamo bianco blu Fossato era bello Vabbè Nell'ottica di un bianco blu Fossato era bello Possiamo andare anche Esper Un Dragon Lord Vediamo 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 No BioTazeret Non Boh Piazza lo gioco Non saremo artefattosi Ah Quicken Boh vabbè Sicuramente Quicken E non l'altra Beh Prima busta direi che Figa Solo bombe Solo bombe Sto facendo un mazzo Molto difficile ragazzi Seconda busta Cosa c'è per noi C'è Labirinto di Hit C'è L'Angelo C'è Tinker Boh L'Angelo Ma 3-4 volare Evasivo Flash Sì Sì dai Mesa Mesa Fitt Non è così forte Qui Secondo me Tutte belle Però Qui Creeping Tarpit Mi sembra che vinca Sì Sua madre delle rune Non voglio fare un mazzo Troppo aggro Mentre voglio giocare Tutti e tre Sti colori Ci voglio Provare A me Time Twister Non piace Forte l'E-Line Bate Time Twister Boh Non so La vedo sempre Un po' situazionale Anche se Qui Effettivamente La cosa più forte Che possiamo piccare Dunque Rimischia la mano Il cimitero E il mazzo E pesca sette carte Entrambi i giocatori Però La Student La Fist and Famine Ci sta tutto qui La Fist and Famine No In Torturach In Torturach No Ah bella anche questa Sai che quasi quasi Qui ci prendo spada 5 creature Sono tante Anche la Wasteland È forte Non lo so Sono stanco Non so cosa prendere Boh A me piace la spada In memoria Dei vecchi tempi Di Cowblade Figa Cryptic Command O Elspet Cazzo Beh ho già due Canter straforti Qui straforte Elspet Secondo me Elspet è molto forte Mi piace tanto Come Come Prince Walker Lo prendo Mi voglio divertire Se duro poco Voglio divertirmi Wall of Omence Dragon Lord Tye straforte Dragon Lord La curvetta un po' alta Wall of Omence Forse era un po' Migliore Però Voglio Dragon Lord S per Dragons Voglio delle terre doppie Sui miei colori Vendillion Click Vendillion Click Voglio terre doppie Sui miei colori Sui 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 Non me ne faccio Di tezzeret Better find out Poi faccio un termine No Un Dismember Lo prendo Forse spike In una counter battle Ma Decide Perché no Pochissime terre doppie Sui Nostri colori L'Academy Ruins Boh Con la spada Boh Potrebbe starci Creeping Tarpit Forte Allora Madre delle rune Che Non giocheremo Oh Tegna lì Ma Questo potremmo giocarlo Parallax Wave Un bel rimuovale Wasteland Bello in tuturas Però Doppio nero Prendo Wasteland Le terre animabili In questo formato Ci sono E fanno male Allora Io in nero Ho Dismember Può essere giocato Anche senza il nero Alla fine Ho solo Il Dragonlord Il Creeping Tarpit Che devo giocare Palude apposta Per animarlo Vediamo come va La terza busta Beh io tolgo Sto titano Ci fa malissimo Ah Regrowth Bella Regrowth Ok Terza busta Ed ultima Vediamo cosa ci tocca Il Wraith Prodigy Fiscia Geist Di Sundraft Ragazzi Cazzo 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 Si io lo prendo Io lo prendo Ah io prendo Il Geist Il Geist Viene difeso Fa malissimo Allora qui Mi prendo Ti voglio ci sono Fixer Devo andare bicolore Beh Mi prendo Il Phantasma Image Devo andare bicolore Cazzo Non vedo Fixer Devo rinunciare Devo rinunciare anche al Creeping Tarpit La true name in Nemesis No con questa Sta forte Eh ma la true name in Nemesis Cazzo È in winning condition qua eh Fortissima Va bene Alla fine Alla fine viene fuori Un mezzo aggro Oh Cazzo Questo è straforte Cost'otto Po' tanto eh Mi piace di più questa Se no Andiamo col bianco Blu E prendiamo un bel vencer Che è fortissimo Bello vencer Ho la curva alta Comunque in questo mazzo Molto alta Ma Non so Sta venendo fuori un mazzo Un po' balordo Rimanda Ok Non vedo l'ora di finire sto draft Mi sto Azzittendo Ok Allora C'è Non c'è molto per noi Boh Togliamo qualcosa che ci dà fastidio Che potrebbe essere Il planeswalker Planeswalker Sono sempre Fastidiosissimi Strip mine Minchia Cattiveria Eh no La sour Dio boh Quanti drop a 4 Però si Sour of Tentation Strafort Belli lightning Graves Però non ho un mazzo Molto aggro Adesso farò un po' Di scrematura Quando è ora di selezionare La decklist Dai ragazzi Che andiamo a letto Allora Parto così Dai ragazzi Che andiamo a letto E questo è lo spirito Con cui comincio Cioè Flick E Ruiz Per me piace molto Boh Lo metto lì Uh bella questa Questa è straforte Mystic Confluence Molto bella Molto bella Molto bella Molto bello Molto bello Tiriamo via questa Che fa controllo Fastidiosa Molto È un mazzo forte Chissà Solo il destino Ce lo dirà Facciamo un po' Una cozzaglia di carte Ho 2000 costi doppi Nero credo che non lo giocherò Mi tengo dismember Perché è straforte E forse Neanche quello Non lo so Adesso vedo Non ho tanti Rimuoval Un sacco di counter Boh Vediamo Arbor Mi fa un cazzo Ehm 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 Ora che ho L'awakening zone Oh forse mi da più fastidio L'awakening zone Questo Il led Di Spiger Ok Andiamo in deck building Vediamo 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 Dunque Facciamo subito Pulizia Vabbè Il led Credo che non lo giocheremo Tiriamo via un attimo Le terre Allora Cerchiamo di Eliminare il nero No Questo quickshot No Neanche force spike Ehm No La madre non la voglio giocare Regrowth Tutto sto rosso Non ci serve Manadrensi Remandsi Fantasma di Mage No Spirito dell'Avininto No Disincantare Oppure un lascio di main Straforte Anche questa è Crashing stone Spada Geist Awakening zone Dismember Per adesso lo lasciam dentro Vendillion True Name Nemesis Time Twister Flicker Whispon Non lo vedo molto Supreme Verdict Venser Sower of Tentation Jace Glenelendra No Parallax Wave No Elspeth Dave Juddman Restoration Angel O.U.T.I. Questo roba che non ci serve Mystic Confluence Force of Will Questo via Questo via Dict Through Time Allora Curva Altissima Alterima Boh Forse toglierei 10 creature Forse tolgo il Day of Judgment No aspetta 25 Devo togliere 2 carte Allora toglierei Day of Judgment I Time Twister Boh Time Twister Non lo so Flicker Whispon Non mi piace molto A me piace tanto Però Flicker Whisp Disincantare Fantasmal Image La Fantasmal Forse Non so Non so cosa lasciar giù Quanti costi a 4 24 carte Tipo una ne devo lasciare giù Un giocatore forte Che cosa metterebbe giù Non so cosa lasciar giù E' tutto fortissimo Forse la Fantasmal Image Forse Disenchant Lo lascio di side Dai Facciamo 10-6 E' la Wasteland Ok Siamo pronti per Match 1 Metà Metoel La Fantasmal Grazie a tutti.